Il numero delle vittime per Covid in Campania ha superato quota 5.000 e la regione è la sesta più colpita d'Italia in termini di perdite di vita umane negli ultimi sei mesi. Dietro la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte e il Lazio. Il dato che d'essa preoccupazione è l'impennata che si è registrata tra la prima, la seconda e la terza ondata. Con la seconda ondata in Campania infatti i decessi legati al Covid sono aumentati in valori assoluti del 90%. Il primo ottobre dello scorso anno i morti di Covid erano 463, poi il primo febbraio di quest'anno sono saliti a 3.765 fino ai 5.002 di ieri. E la terza ondata continua ad essere devastante nonostante la zona rossa. Ma è dagli anticorpi monoclonari che arriva una speranza concreta di guarigione. La sperimentazione infatti è già stata avviata. Il primo ciclo di cura è stato somministrato venerdiscorso all'ospedale del mare a un 57 anni diabetico fragile, affetto da concomitanti, patologie cardiovascolari e ammalatosi anche di Covid. In questo primo paziente a distanza di due giorni dalla cura la febbre è scomparsa anche se l'insufficienza respiratoria è ancora presente. Intanto l'ondata di abbandoni nella campagna vaccinale napoletana non si è placata. Il forfè riguarda la platea del personale sanitario destinato ad AstraZeneca e convocato alla mostra ad oltremare e alla stazione marittima. Scenario opposto invece all'ospedale di Pozzuoli dove centinaia di persone hanno atteso il proprio turno davanti all'ingresso della palazzina che ospita 8 ambulatori vaccinali. Insieme al personale scolastico, a quello sanitario e agli over 70 sono iniziate le vaccinazioni anche per le categorie fragili, compresi i malati oncologici. I tempi di attesa hanno raggiunto in alcuni casi persino le 6 ore. Giornate drammatiche, quelle che sta vivendo il capoluogo sul fronte dell'emergenza sanitaria. Negli ultimi 5 giorni sono infatti deceduti 5 pazienti residenti ad Avellino, gli ultimi due nelle 24 ore appena passate. Ieri pomeriggio al Covid Hospital del Moscati aveva perso la vita lo storico dirigente della Cisil Antonio Melchionda, aveva 74 anni. Questa mattina invece è deceduto un 65enne. Aveva invece 78 anni Francesco Luciano di Serino, detto Ciccariello, storico custode personaggio della mascherata serinese, della Rosa Marina e delle tradizioni folkloristiche locali. Era ricoverato nella terapia subintensiva del Moscati. E nell'ospedale ancora alto il numero dei ricoverati in aumento rispetto agli ultimi giorni. 85 in tutto i pazienti in cura, 10 di questi lottano in terapia intensiva. Il Francipane ha di nuovo esaurito l'area Covid, 43 i pazienti ricoverati, 5 in terapia intensiva. Il bollettino dei contagi ci restituisce 87 nuovi casi su 1.061 tamponi. Nessuna zona per fortuna in doppia cifra, ma restano elevati i numeri di Ariano, Avella e Serino, quota 7 per tutte e tre le realtà ilpine. Altri 5 contagi a Gesualdo, 4 a Grotta Minarda e Melito, ma la lista diffusa dell'Asla vede positivi accertati in ben 35 comuni. Il Covid continua a mietere vittime. Ancora decessi nell'agro nocerino sarnese, con l'età media che si abbassa sempre più. All'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, un 39enne di nazionalità rumena, è deceduto nella shock room pochi minuti dopo il suo arrivo in codice rosso alle 23.58 di ieri. L'uomo si è recato al pronto soccorso con la propria auto, diagnosticata febbre e dispnea. I medici hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, che stava male da 4 giorni, è morto per arresto cardiocircolatorio ed è risultato positivo al tampone rapido. Si attende l'esito del tampone molecolare. A Pagani una 42enne invece è deceduta per Covid dopo giorni di agonia. La donna era ricoverata da 7 giorni all'ospedale da Procida di Salerno, dove era arrivata trasferita dal pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Le sue condizioni erano apparse già disperate al momento dell'arrivo al pronto soccorso nocerino. In preda ad una crisi respiratoria, la funzionalità dei suoi pulmoni appariva già drammatica. E dalla città di Sant'Alfonso viene rilanciato l'invito ai cittadini che hanno soffrito di bombole di ossigeno e non ne hanno più bisogno a contattare le farmacie dove le hanno ritirate per concordare la restituzione al fine di ricaricarle e mettere a disposizione di chi ne può aver bisogno. Alcuni comuni intanto registrano ancora numeri importanti sul fronte dei positivi. Ecco i dati raccolti dall'unità di crisi della regione Campania per l'area nord della provincia di Salerno. Scafati è nuovamente il comune ad aver registrato il maggior numero di contagi con ben 41 nuovi positivi. Segue poi Angri con 24 positivi. Nocera inferiore 16. Salerno, Sarno e Pagani registrano 14 contagiati a testa. Cava dei Tirreni 11 nuovi positivi, Mercato San Severino 9, Baronissi e Fisciano 8, Sant'Egire del Monte Albino 6, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Vietre e Positano registrano tutti i due nuovi positivi ed infine Bracigliano con un nuovo positivo. Ad Angri invece la riflessione del sindaco Cosimo Ferraioli che sui social commenta il nuovo incremento dei contagiati in città. Un dato afferma tristemente in linea con gli altri paesi limitrofi. L'invito che vi faccio a restare vigili ha ancora più senso in questa fase di accelerazione sui vaccini. Resistiamo un altro po' e non perdiamo di vista l'obiettivo, affermato Ferraioli. Non sembra placarsi la paura per il vaccino AstraZeneca dopo i casi in giro per l'Italia di decessi che a tutt'oggi non sembrano però essere correlati alla vaccinazione effettuata, stando ai report dei medici in prima linea. Fatto sta che il numero di defezioni è alto, facendo registrare ieri un'altra giornata negativa. Il forfè riguarda la platea del personale sanitario convocato sia domenica che lunedì. Ieri al Covid Center, allestito alla mostra ad oltremare, si è ripresentato lo scenario di desolazione già vissuto domenica, replicando lo stesso flop sulle presenze. Tutto liscio invece per le somministrazioni di circa 200 seconde dosi Pfizer agli over 80 e alcune decine di inoculazioni per le forze dell'ordine. Le aree attrezzate della mostra dotate di 15 box per le inoculazioni che sulla carta potrebbero somministrare 5.000 dosi al giorno. Ieri erano praticamente vuote. Un dato fa riflettere su tutti. Da sabato 20 marzo, giornata del V-Day per la ripresa della campagna vaccinale con AstraZeneca, gli abbandoni sono cresciuti passando dal 30%, registrato soprattutto tra il personale scolastico, fino al 60% delle rinunce tra i 2.500 lavoratori in ambito sanitario convocati domenica. Stiamo effettuando delle verifiche per accertare che le mancate presenze riguardino gli operatori sanitari privati di case di cure e centri privati, ha affermato Ciro Verdoliva, direttore dell'Asla Partenopea, che conta 106.000 vaccini di cui 34.000 completati dall'inizio della campagna. La rete della sanità pubblica ha aderito in massa e sono in prima linea a garantire l'assistenza. Scenario opposto all'ospedale di Pozzuoli, dove anche ieri per il terzo giorno consecutivo centinaia di persone hanno atteso il proprio turno davanti all'ingresso della palazzina che ospita 8 ambulatori vaccinali. Insieme al personale scolastico agli over 70 da 48 ore al Santa Maria delle Grazie sono iniziate le vaccinazioni anche per le categorie fragili, compresi i malati oncologici. E i tempi di attesa hanno raggiunto in alcuni casi perfino le 6 ore, per due motivi principali. La durata dei colloqui pre-vaccinali, cui tempi si sono dilatati dopo la sospensione di AstraZeneca, che in molti casi fa registrare iniziali resistenze da parte degli utenti, e il mancato rispetto dell'orario di appuntamento con la tendenza di molti ad anticiparsi. Due fattori che stanno mandando in tilt il sito vaccinale. C'è l'accordo tra l'ASL e i medici di base che dicono sia la somministrazione dei vaccini. L'intesa arriva dopo una serie di incontri, l'ultimo dei quali questa mattina presso la sede dell'ASL di Salerno, che si sono svolti negli ultimi giorni, arrivando finalmente a trovare una sinergia. I medici di base hanno fornito totale condivisione e collaborazione al progetto dell'ASL, sottoscrivendo alla presenza del delegato all'emergenza Covid dell'azienda sanitaria, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, l'accordo che a breve sarà operativo e che ha valutato nel corso della riunione che si è svolta oggi tutti gli aspetti con i rappresentanti dei medici di medicina generale. Aspetti finalizzati all'organizzazione e all'avvio delle attività di vaccinazione. È chiaro infatti che non tutti i camici bianchi sono dotati di strutture idonee. L'idea di base è anche quella di poter utilizzare ambulatori dell'ASL dove non sarà possibile garantire tutte le misure di sicurezza idonee. Dallo stesso punto di vista, il piano valuta anche le tipologie di pazienti che possono essere sottoposti a vaccino dai medici di base, perché è evidente che se sussistono condizioni di fragilità o rischio grave, è conveniente effettuare la vaccinazione in strutture specializzate, anche ad affrontare eventuali emergenze. L'intesa arriva dopo momenti di frizione in cui si era registrato anche un braccio di ferro con i medici di base sulla questione delle iscrizioni dei vaccini sulla piattaforma. Oggi il coinvolgimento dei medici di base servirà certamente a dare un'accelerazione ulteriore alla campagna vaccinale in corso in campagna, che tra l'altro, come ha precisato ieri una nota della regione, ha raggiunto quasi 700.000 cittadini con il 90% degli over 80. Anche all'azienda ospedaliera universitaria Ruggi la campagna vaccinale, come ha avuto modo di confermare ieri il referente Covid, il dottore De Caro prosegue nel migliore dei modi. Il futuro fa paura. Sono 9,4 milioni infatti i lavoratori del settore privato preoccupati sul futuro della propria occupazione. In particolare 4,6 milioni temono di andare incontro a una riduzione del reddito. 4,5 milioni prevedono di dover lavorare più di prima. 4,4 milioni hanno paura di perdere il posto di lavoro. Gli operai spaventati sono 3 su 4. Del resto, nonostante il blocco dei licenziamenti stabilito per decreto nel 2020, non sono stati rinnovati 393 mila contratti a termine. Sono alcuni dei principali risultati del quarto rapporto Censis e Odaimon sul welfare aziendale. Al cupo orizzonte dei lavoratori si contrappone l'ottimismo delle aziende. L'87% guarda con ottimismo la ripresa dopo l'emergenza. Voglia di fare, speranza e coesione interna sono gli stati d'animo prevalenti tra i responsabili aziendali intervistati dal Censis. Il dopo sarà caratterizzato dalla corsa al recupero di fatturato e quote di mercato e dalla sfida della transizione digitale. L'ottimismo delle aziende colpisce, visto che ben il 68,7% di esse ha registrato perdite di fatturato dopo il lockdown della scorsa primavera. Nonostante le straordinarie difficoltà, per il 62,2% dei responsabili aziendali le proprie imprese se la stanno cavando bene. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza di cui mi sta occupando ha circa un miliardo di euro di debiti. È normale? Non credo. Io ho scoperto, perché questo mi è stato detto da un commissario straordinario in Calabria, che un'azienda sanitaria calabrese risulta tuttora sprovvista dell'inventario. Allora, domanda che si fa a un ignorante, perché io sono un ignorante, così come il mio maestro Socrate, ma se non hai l'inventario dei beni, lo stato patrimoniale dell'azienda, come lo fai? È il bilancio, che è un obbligo imposto per legge annualmente, che legittimità ha se gli manca uno snodo fondamentale, però questa è la Calabria. Tutti quanti ricordiamo perché Campani, lo scalpore che fece la foto del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, allora quando decise in qualche modo di farsi immortalare mentre veniva vaccinato. Io credo che lo stesso scalpore, scalpore non indica un giudizio di merito, né positivo né negativo, dovrebbe essere garantito a tutte quelle altre categorie di soggetti che si fanno vaccinare con qualche perplessità da parte di tanti, perché altrimenti se in qualche modo eludiamo le regole, mi domando perché mai fissiamo le regole, se poi ci sono tanti che delle regole se ne sbattono. Se la regola è quella deve avere la stessa applicazione su tutto il territorio nazionale e però siamo in Italia e avviene l'inverosimile. Il sistema sanitario nazionale deve tutelare la salute dei cittadini italiani, se non è capace qualche domanda ce la dovremmo proporre. Io non sono preoccupato per il bilancio, sono preoccupato del fatto che abbiamo pochi giorni per prepararlo nel bilancio perché i comuni stanno senza soldi. Se lei si riferiva alla maggioranza e ai numeri no, io penso faremo un buon lavoro perché io anche ieri ma anche in questi giorni ho molto apprezzato la volontà della maggioranza ampia dei consiglieri comunali di voler continuare ognuno col proprio ruolo a dare un contributo alla città. Credo questo è il segnale che si aspetta alla città, sono tante cose da fare, c'è da affrontare un'estate che forse sarà l'uscita dal tunnel e quindi una ripresa culturale ed economica, ci sono tanti lavori importanti in città, ci sono tante cose importanti, tante sofferenze da curare, insomma veramente non riesco a comprendere come ci sia gente che si sveglia la mattina e si addormenta la sera con l'unico obiettivo di dare una spallata a questa città, questo veramente comincia a diventare un fatto patologico. Tutto l'impegno possibile, secondo me è l'unica risposta, c'è poco tempo, lo so, però sono abituata a lavorare tanto e quindi mi dedicherò veramente con il massimo dell'energia a seguire queste deleghe che sono due, cioè che sia il welfare ricompattato e anche la trasformazione digitale. Secondo me sono, come ho detto anche prima, una lettura importante rispetto a come si può affrontare la crisi, guardando avanti e guardando anche chi si trova in situazioni di debolezza e deve essere affiancato e sostenuto sempre. L'hanno denominata farmaco viaggiante gli inquirenti della Procura di Latina, l'inchiesta che ha portato i carabinieri del nucleo antisofisticazione, i NAS, a sgominare un'organizzazione criminale che gestiva un traffico di farmaci di provenienza illecita, che operava tra l'Italia e la Gran Bretagna. Al risultato delle 18 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale della città laziale, si è arrivati anche grazie alla collaborazione delle autorità britanniche competenti. Cinque indagati sono finiti in carcere, cinque agli arresti domiciliari e otto con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Napoli, Caserta, Vellino, Firenze, Milano e la Spezia, le città in cui operava l'organizzazione, cento i militari impiegati. Articolata l'attività investigativa che si avvalsa di ricognizioni fotografiche, di pacchi postali destinati alla Gran Bretagna, servizi di pedinamento, acquisizioni di video e di oltre 10.000 ricette. Questo ha consentito di risalire al modus operandi dei componenti dell'intera struttura associativa e al recupero, con contestuale sequestro, di 260 confezioni di farmaci per un valore complessivo di circa 10.000 euro e di 650 ricette mediche rubate. I farmaci venivano poi spediti con corriere nel Regno Unito, uno dei componenti della banda, già latitante perché destinatario di un precedente provvedimento restrittivo, che li reimmetteva nel legale circuito commerciale, servendosi di operatori e grossisti del posto. È una singolare vicenda, quella raccontata dai carabinieri di Salerno, dietro la quale si nasconde però tutto il mondo di complessità, sofferenza, disagio che si vive tra le mura domestiche alle prese con il Covid. Tutto è partito da un allarme arrivato al 112 nella giornata di ieri. È una maestra a chiamare i militari e a chiedere loro di intervenire dopo che ha notato la scelta di una mamma di chiudere e di interrompere repentinamente la lezione dad della figlia. È emerso che si trattava di moglie e figlie positive al Covid, per cui è stato operato un intervento della sezione radiomobile insieme ai sanitari. Viste vane le prime richieste di accedere all'abitazione, assieme al 118, per verificare le condizioni di salute, è stato convocato un negoziatore del comando provinciale dei carabinieri di Salerno e di Vigili del Fuoco. L'uomo, dopo circa due ore di colloquio con la donna, l'ha convinta ad aprire la porta per sincerarsi della situazione. Dopo un altro quarto d'ora di mediazione è riuscito anche a persuaderla a farsi visitare dal medico presente sul posto. La donna è stata trovata in stato parzialmente confusionale, dovuto probabilmente ad un errato uso dei cortisonici impiegati per le cure Covid. È stato infine fatto giungere l'ex compagno, anche egli positivo al Covid, per farlo restare in casa sino alla normalizzazione della situazione. Una storia dunque simbolica e singolare, che ha anche scosso il quartiere dove è avvenuto, che ha sentito la donna gridare. Un episodio che denuncia le difficoltà di tante famiglie, alle prese con il contagio, ma ha anche, per fortuna, una storia a lieto fine che, dalla maestra ai carabinieri, racconta di una filiera di aiuti e supporto che sta funzionando. Il sindaco di Castelbaronia, Felice Martone, proclamerà il lutto cittadino. Dolore e incredulità nel piccolo comune della Baronia per la tragica fine di Lorenzo Guida, 19enne, ritrovato privo di vita in una scarpata sotto ad un ponte alle porte di Carife. Un volo di circa 30 metri. Sono stati i familiari a lanciare l'allarme. Lorenzo, uscito di prima mattina in auto, non aveva più fatto ritorno. La sua automobile, parcheggiata a pochi metri dal ponte, è stata notata da alcuni operai e alcuni passanti. Non sembrano esserci molti dubbi sull'ipotesi del suicidio. Difficili le operazioni di recupero del corpo di Lorenzo da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il giovane avrebbe dovuto conseguire la maturità proprio quest'anno. frequentava l'Istituto Tecnico De Gruttola di Ariano Irpino. Affranti dal dolore, i genitori e il fratello, molto conosciuti e stimati a Castelbaronia, il padre è una guardia giurata. La salma è stata trasferita presso l'obitorio del Sampio di Benevento per l'esame esterno da parte del medico legale. Sconvolta la comunità di Castelbaronia, le parole non riescono ad esprimere il senso di questa tragedia, ha commentato il sindaco Felice Martone. Castelbaronia pochi mesi fa aveva già subito la perdita di un altro giovane in un incidente stradale. Siamo vicini alla famiglia, c'è l'affetto di tutti, conclude il sindaco. Lorenzo è un figlio della nostra comunità. Le ricerche sono appena iniziate, stiamo imbastendo l'attività, abbiamo delimitato delle sottozone, dell'area di probabile caduta e stiamo acquisendo la disponibilità dei volontari per le ricerche, alcune le abbiamo già acquisite e partiranno questo pomeriggio diciamo in modo più intenso poi anche domani e nei prossimi giorni. Sì, questo aiuto è molto utile perché un po' per le restrizioni date dal Covid, un po' perché la nostra squadra non è particolarmente numerosa e queste ricerche richiedono un gran numero di persone. Qualunque aiuto di organizzazioni già organizzate, appunto di associazioni, ci viene incontro nella ricerca. Il bolide è una meteora molto brillante che è generata da un oggetto di dimensioni che possono essere anche dell'ordine di parecchi centimetri o decine di centimetri. In questo caso abbiamo stimato dell'ordine di 10 centimetri, è molto luminoso e quindi si chiama bolide. È un fenomeno analogo a quello delle stelle cadenti, solo con un oggetto molto più grande e quindi può dare come risultato un residuo a terra, cosa che non succede con le normali stelle cadenti che bruciano completamente in atmosfera. Dare un numero è veramente dare un numero all'otto perché ci sono stati casi in cui dopo neanche una mezz'ora di ricerca si è trovato qualcosa e ci sono stati molti altri casi dopo giorni e giorni di ricerca non si è trovato niente. Quindi è veramente il classico dilemma o problema del lago, del pagliaio, dove come vedete qui di Aghi ce n'è tantissimi e bisogna avere magari un occhio un po' allenato per cercare di discriminare e velocizzare il lavoro. I dati ottenuti tramite la rete di telecamera del Prisma ci danno una zona intorno ai 2 chilometri per un chilometro e mezzo che è grossomodo centrata qui sul paese di Temennotte. Ora vedremo un attimo di suddividere la zona in lotti più piccoli per cominciare una ricerca più sistematica anche col supporto delle associazioni e dei volontari che a breve ci raggiungeranno. E quindi speriamo per il bene, dai! In questa prima fase della ricerca sicuramente, perché l'uso di strumentazioni come metal detector non sempre aiuta in ricerche di questo tipo. Le caratteristiche sono principalmente un aspetto, una colorazione scura, nera. Ci aspettiamo una crosta di fusione che è la parte esterna della meteorite di colore scuro. Sull'aspetto, sulla lucentezza, non sappiamo perché anche lì dipende dalla composizione. Ci sono croste di fusione lucide che hanno un aspetto vetroso, quindi spiccano molto bene rispetto alle rocce circostanti. e ci sono altre croste che sono più opache, quasi fossero satinate. Ma in letteratura e nelle collezioni si conoscono meteoriti che hanno croste di diversi colori, dal color nocciola al color verde, quindi c'è una certa varietà. Quelle più comuni sono di colore nero. Di sicuro ha un aspetto abbastanza liscio, smussato, senza spigoli vivi. Questo perché il passaggio nell'atmosfera avrebbe eventualmente smussato gli spigoli vivi della meteorite. Nel caso qualcuno fortunato della zona trovasse qualcosa che rispettasse queste caratteristiche, preghiamo intanto di annotare la posizione. Fare magari qualche fotografia, evitare di toccarla per contaminarla ulteriormente, perché questo serve poi a noi per avere il campione quanto è più fresco possibile. E poi di sicuro chiamare qualcuno delle autorità qua vicino, che provvederanno poi a chiamare noi dell'università o comunque chi di competenza, e sperare quindi di portarle in un lavoratore e cominciare la ricerca. Sono iniziate da stamattina e di fatti era già programmato questa spedizione da parte dell'ingegnere, i quali sono arrivati stamattina, noi abbiamo messo a disposizione anche una struttura logistica per quanto riguarda tutte le attività e ci auguriamo che la ricerca porti un buon frutto di questa meteorite che è caduta in questa località. Mi sembra un fatto strano che è scesa proprio attimo e notte questa meteorite. Buona giornata da Nico Schiodetto. Giovedì l'anticiclone delle Azzorre sarà in ulteriore rinforzo sulla nostra penisola con condizioni di bel tempo, possiamo osservare come la giornata sarà con cieli sereni o poco nuvolosi grazie all'alta pressione presente sul Mediterraneo centrale. Di tanto in tanto il passaggio di qualche nube alta ma innocua. Mappa delle precipitazioni per appunto confermarci questa assenza di piogge sullo stivale se non qualche limitato occasionale rovescio tra Puglia, Basilicata e Calabria ma appunto non si tratta di mal tempo, solo qualche accenno instabile tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Andiamo al dettaglio, mappa dell'Italia con il bel tempo, i cieli sereni o poco nuvolosi ovunque un po' di variabilità all'estremo sud, abbiamo segnalato qualche locale piovasco lungo l'Appennino altrove è bello al nord Italia e sulle centelle tirreniche tocchiamo i 17-18 gradi. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.